Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti alla videorubrica segnalazioni, il cui scopo è quello di aiutarvi a fare una buona pesca nel mare del web. In questo video vorrei segnalarvi la tavola periodica degli elementi della narrazione, un lavoro di un grafico, James Richard Harris, che lo ha pubblicato nel 2014, rilasciandolo sotto licenza Creative Commons. Si tratta di una tavola periodica ispirata a quella degli elementi di Mendeleev, di cui vedete una raffigurazione. Il principio ispiratore di questa tavola interattiva è quello di rendere semplici da capire i concetti complessi grazie alla grafica. L'utilità di questo strumento è che ormai viviamo immersi in un pervasivo universo narrativo, un continuum spazio-temporale di narrazioni in ogni ambito della vita sociale, dalla politica al marketing alla cultura. E pertanto è necessario, affinché noi possiamo in modo consapevole abitare questo universo, anzi questi universi narrativi, è necessario che disponiamo di strumenti per analizzare e comprendere e per poterci muovere all'interno di questo continuum. E' quindi non solo utile ai fini di una media education questo strumento, ma anche alla formazione, al completamento di un pensiero critico che sia efficace. Naturalmente, come nel modello da cui trae ispirazione, anche nella rappresentazione di Harris, qui vedete la tavola periodica dello storytelling, della narrazione, occorre individuare degli elementi atomici, elementi narrativi atomici, dalla cui combinazione otteniamo le strutture narrative molecolari, cioè le opere narrative. Quali potrebbero essere gli elementi minimi della narrazione che la tavola di Harris si propone di classificare? Sono i cosiddetti troppi, ciascuno di questi è un troppo, in retorica, in linguistica, nella critica letteraria, nella narratologia, il troppo è l'utilizzo di una espressione usata in senso figurato, cioè con un significato diverso rispetto a quello che normalmente possiede. Per esempio, se osserviamo questo elemento, a esta per esopo, vedete si colora, e quindi la figura del noto scrittore di favole greco, viene a indicare, per estensione analogica, tutte quelle narrazioni il cui scopo è quello di esprimere una morale della favola. oppure la C di conflitto diventa il modello di un'innumerevole serie di strutture narrative che si basano fondamentalmente sul conflitto. Ecco, questi sono gli elementi minimi. Ogni troppo, come vedete, questa è una leggenda dei singoli troppi, ha un numero in alto a destra che rappresenta l'indice di popolarità di questo troppo, calcolato in base a quelle che sono le visualizzazioni, cui questo link punta, perché è un link, le visualizzazioni nella enciclopedia TV Tropes, che adesso vedremo. Quindi, cliccando, vedete, qui abbiamo un numero, quindi saranno 6.000 visualizzazioni. Poi abbiamo il nome del troppo, che lo identifica, o per meglio dire, una sigla, un acronimo, che lo identifica, un codice, e poi il nome per esteso, struttura tre atti, per esempio. Cosa succede se clicco sul singolo troppo? Vengo rimandato, appunto, a un'enciclopedia TV Tropes. TV Tropes era un progetto che originariamente si proponeva di mappare, monitorare, costruire, come dire, un'enciclopedia di tutti i troppi, le figure dell'immaginario televisivo. Naturalmente poi, con l'evoluzione dei media, anche questo progetto si è espanso, andando a comprendere varie tipologie di media, e vari formati, insomma, dal cinema al teatro, al fumetto, e così via, il videogioco, il web, la musica, le animazioni. Che cosa troviamo? Troviamo in corrispondenza di ogni troppo la descrizione di questo troppo, e poi troviamo tutta una serie di esempi organizzati a seconda dell'utilizzo che ne viene fatto, per esempio l'esopo in generale, cioè, insomma, le storie, le narrazioni con un morale in generale, i personaggi in relazione ai personaggi e ai dispositivi, varie tipologie di storie con la morale, e così via. E' soprattutto interessante, vedete, tutta una serie di esempi tratti dalle varie arti e dalle varie forme di comunicazione, dai vari universi comunicativi e narrativi, che so, i fan works nell'ambito della fandom, le produzioni dei fan, anime, manga, film, letteratura, tv, videogame, eccetera, eccetera. E' tutto in inglese, possiamo aiutarci con la traduzione automatica, e anche in corso la traduzione in italiano di questa enciclopedia, ma poche voci sono state finora tradotte. Esaminiamo ora la tavola periodica degli elementi per vedere come è organizzata e strutturata e a quali scopi può essere utilizzata, per esempio in ambito didattico e in generale in ambito formativo. Bene, possiamo fare questo con la traduzione in italiano di questa tavola, grazie a Barbara Businaro, che ha chiesto l'autorizzazione ad Harris, che gli era concessa, di poterla tradurre. E quindi qui, vedete, abbiamo tutto in italiano, per fortuna. Bene, in primo luogo, i vari elementi che compongono la struttura di una narrazione, secondo questa idea combinatoria della narrazione, vengono inglesiati secondo alcune categorie, per esempio la struttura, l'ambiente, quegli elementi che producono delle modificazioni nella narrazione, cioè delle svolte narrative, dei punti di svolta, strumenti che invece caratterizzano, definiscono la trama, gli eroi, cioè i protagonisti, quegli elementi che modificano l'eroe, l'arco narrativo, cioè del personaggio, gli archetipi, gli unghiani, che troviamo nella narrazione, gli antagonisti e vari tipi di antagonisti, i metatropi, cioè i modi in cui viene raccontata la storia, e ancora gli elementi della produzione, cioè le scelte dell'autore, è tutto ciò che ha a che fare col regno della fandom, della cultura e della letteratura dei fan, dell'interazione partecipativa all'opera narrativa. È impossibile esaminare uno per uno tutti questi tropi, ma abbiamo già visto il conflitto, prendiamo in esame solo la struttura, c'è la struttura a tre atti, quindi la forma dei tre atti, inizio, svolgimento e scioglimento, ci sono quelle strutture narrative basate su una rivelazione, o su un climax, naturalmente sono elementi che sono presenti in tutte le storie, ma in alcune vengono tematizzati e focalizzati come elementi principali dell'organizzazione della trama. Il lieto fine, la pistola di Chekhov, Chekhov diceva, Anton Chekhov, narratore russo, diceva se in un racconto c'è una pistola deve sparare, eccetera, eccetera. Come utilizzare questa tavola? Beh, come si usa la tavola degli elementi del chimico russo, delle IEV, e cioè per analizzare un testo narrativo, un film, un'opera letteraria, un racconto, un fumetto, una serie tv, per analizzare un testo narrativo e vedere quali sono gli elementi che compongono la sua struttura, quali sono i personaggi, quale è il sistema dei personaggi, eccetera, eccetera, individuando i vari tropi. Oppure, al contrario, per costruire una narrazione, scegliendo alcuni tropi e partendo da quelli per definire che sono la struttura, gli elementi del setting, i personaggi protagonisti, gli eroi, gli archetipi, eccetera, eccetera. Un esempio viene fornito, non è stato questo tradotto da Barbara, Businaro, ma viene fornito nella tavola degli elementi originale. Quindi Ares, per far capire come funziona la sua tavola degli elementi, vedete, ha preso alcune narrazioni, che so, Avatar, oppure Ghostbuster, oppure, ecco, facciamo Star War, prendiamo Star War come esempio, cliccando su Star War, vedete che vengono ad essere evidenziati gli elementi, nella tavola della narrazione, gli elementi da cui è composto il film, il primo film delle innumerevoli trilogie che poi sono state fatte di Star War. E quindi abbiamo The Choosen One, il prescelto, che sarebbe la banda dei cinque uomini, perché i due robot, Jubekka e Harrison Ford, più Luke, formano la banda dei cinque uomini, l'impero, l'impero malvagio, Dark Fener, eccetera, eccetera, e tu mi hai deluso. Bene, questi elementi, congiunti insieme, rappresentano, secondo questa struttura, l'analisi dell'organizzazione degli elementi narrativi dei truppi di Star War. Ecco, questo è un esempio di come si può utilizzare questa tavola periodica. Analisi narrativa o sintesi narrativa e composizione di una struttura narrativa minimale, a partire da questi truppi, per poi comporre, creare una storia. Bene, inserirò i vari link alla tavola periodica, la sua traduzione in italiano e al mio articolo, che è una sorta di guida all'uso di questa tavola periodica, nella box descrittivo del video che pubblicherò su YouTube. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.